Viabilità rivoluzionata per il Giro d'Italia domani a Udine. La Corsa Rosa prenderà le mosse da Piazza Libertà alle 10 per dirigersi poi verso Via Vettorio Veneto, Via Gorghi, Via Crispi, Via Poscolle, Via Marco Volpe e Via Di Toppo e proseguire su Viale Trecesimo fino a Molinuovo in territorio di Tavagnaco dove verrà il via vero e proprio della tappa. Chi dovrà usare i mezzi pubblici dovrà armarsi di pazienza in quanto le corse urbane di arriva a Udine inevitabilmente si adegueranno al passaggio della Carovana Rosa. Dal momento che il quartier generale sarà in Giardin Grande, Piazza Primo Maggio sarà chiusa al traffico dalle 5 alle 11 per accogliere i mezzi delle squadre ciclistiche. Una decina le linee di bus che seguiranno un altro tracciato secondo il piano appositamente elaborato della Società di Trasporti. Si tratta della 1 e della 3 da e verso la stazione ferroviaria, della 2, della 7, dal capolino di via Marsala e da quello di Godia, della 9, circolare destra e della 8 verso la stazione dei treni. Per le corse sulle direttrici verso nord saranno sospese le fermate di via Le Trieste, via Renati, via Forni di Sotto, via Tricesimo, via Feletto, via San Daniele, via Caccia. Dalle 8 e 30 alle 10 e 40 chiuderanno al traffico anche via Gorghi, piazza Garibaldi, via Del Gelso, via Poscolle, via Marco Volpe, via Micesio, parte di piazzale Diacono, via Di Toppo, piazzale Osoppo, via Le Volontari della Libertà, piazzale Chiavris, via Le Trecesimo, la Rotonda, la di Moret, via Cividina e Moline Nuovo. Ci saranno quindi deviazioni per le linee 1, 2, 3 e 4 da e per la stazione, 5 da Passon e da Paparotti, 6 e 11 da e per la stazione, 9 e 10. Rallentamenti o ritardi non sono comunque da escludere, a causa del traffico, di eventuali variazioni sugli orari di chiusura del percorso di gara del Giro.